Letto per voi. Dal libro al cinema succede spesso, tutto grazie ad Ivan Cotroneo, autore prima e regista poi del libro e del film. Il Bacio, pubblicato da Bonpiani, una storia che coinvolge un sedicenne, una professoressa e un ragazzo cresciuto a pane e violenza. Sentiamo l'autore e regista, Ivan Cotroneo. Il film Un Bacio parte da un libro che ho pubblicato qualche anno fa e lo modifica e lo trasforma. È una storia sull'adolescenza e sulla fragilità dell'adolescenza, su quanto dai ragazzi si è esposti alla violenza degli altri. I protagonisti del film sono tre ragazzi di 16 anni, qui all'esordio, sul grande schermo, che sono tre esclusi dalla scuola. Uno perché è considerato stupido, l'altro perché è considerata la ragazza facile della scuola e il terzo perché è gay. E attraverso l'amicizia sfidano le leggi del gruppo, le margine. Ivan Cotroneo è l'autore del libro da cui è tratto il film omonimo Il Bacio. Letto per voi.